World of Warcraft World of Warcraft Litz e Patty Thompson Shinigani Sama e Maka Alba Oscar, Astra, Angelica, Marianna, Oliver e Giulia Il mondo è stato sprofondato negli abissi del terrore L'umanità è stata travolta dai vortici della follia I demoni che hanno quasi distrutto tutto sono i Kishin La scuola vuole impedire la loro rinascita È stato Shinigami a fondarla per addestrare le armi e i maestri d'armi Ehi, Patty! Devi stare allineata! Lo vuoi capire? Ehi, Kid! Ti sembra il momento di pensare a certe cose? Voglio che tutto sia perfetto in qualsiasi momento D'accordo, ma perché proprio adesso? Se stessi ad ascoltare quando parlo, forse capiresti quello che dico! Scusami! La simmetria è l'apice della perfezione Ci risiamo È per questo motivo che uso sempre due pistole Perché quando vi impugno siete perfettamente simmetriche Invece quando assumete forma umana, i capelli, l'altezza, sono differenti Persino la misura delle tette è differente! Scusami tanto se le mie sono più piccole delle sue Ma proprio tu mi parli di simmetria! Quelle tre strisce di capelli bianchi che hai a sinistrata Sembrano simmetriche, forse? Come sono infelice, sono un essere schifoso Perché ho i capelli di questo colore Sono uno sceno ripugnante relitto umano Kid, stai tranquillo, non fare così Non sei un essere schifoso, non piangere, fatti coraggio Non sono uno sceno ripugnante relitto umano Oh, ma no Salutare! Capelli I ragazzi si sono molto divertiti da sembrare questi costumi Tra viti, parrucche e accessori vari da colorare Sono state coinvolte anche la mamma di Astra e la nonna di Angelica Zed ha la mania della simmetria, dicevamo Liz e Patti hanno paura di tutto MacAlban ha il suo macaccioppo E non di chi gli dimentichiamo il grande capo paparino Di chi? Grazie ragazzi È un buono Grazie a tutti